Il suo signore Il suo signore che aveva imparato a conoscere sin dalla teneretà le pagine del Vangelo, che avevano avuto la possibilità di far crescere in lei questa comunione profonda, aveva capito che quello era il suo momento, quella era la sua prova, quella era la sua storia d'amore. Da quella porta, da quel passaggio avrebbe guadagnato l'entrata a pieno titolo nella cittadinanza di questa Gerusalemme verso la quale noi tutti siamo incamminati. Ecco, una storia fra mille, fra miliardi di storie che la Chiesa propone, ma questo deve darci la possibilità quest'oggi, nel luogo in cui Padre Pio è vissuto, un grande santo, la possibilità ecco di rivolgerci al Signore e chiedere a Lui, Signore, io non so qual è la prova che Tu hai pensato per me, ma quel giorno, in quel momento, non lasciarmi terrorizzare, non lasciare che sia terrorizzato dai pensieri più brutti, dammi la possibilità di scorgere il Tuo sguardo e Ti seguirò con tutta la gioia del cuore fin dove Tu vorrai. Grazie a tutti.